Presidente Di Giovanni, bottino pieno dopo le prime due di campionato, il Chieti che voleva vedere, risultati soddisfacenti ma anche belle prestazioni. Ebbè sì, le prime due partite sono andate bene, siamo a punteggio pieno ma adesso bisogna assolutamente non mollare e continuare su questa strada. Soprattutto cominciando a pensare domenica al Capistrello, terza gara stagionale, chiaramente l'obiettivo è lo stesso, continuare a vincere ma anche aumentare un po' la risposta degli sportivi di Chieti che credono tanto in questo progetto e il Presidente Di Giovanni so che li vuole numerosi allo stadio. Eh beh sì, domenica comincia ad essere una prima gara da prova del fuoco nel senso che sarà importante verificare la risposta della città di Chieti. Io penso che questo messaggio televisivo possa anche servire ad essere un appello a stimolare la città, a raccogliere la sfida di non essere secondi a nessuno per pubblico in Abruzzo nel sostenere la squadra della propria città. È importante avere presenza allo stadio, è importante sostenere i nostri ragazzi. La sfida con il Capistrello sarà impegnativa ma l'obiettivo anche questa domenica è la vittoria. Chieti strafavorito per la vittoria del campionato, lo dicono i numeri. Sì, ma i numeri possono anche dirlo, però il campionato è lungo, bisogna lavorare seriamente senza abbassare la guardia e mettere su le nostre aspettative un mattoncino dopo l'altro, partita dopo partita, ripeto, cercando di essere accompagnati dalla città che ha tutte le caratteristiche e le condizioni per offrire una risposta importante con uno scatto d'orgoglio e soprattutto con la presenza allo stadio.